Se aumenti di 400 euro al giorno il fatturato, sei a posto. Questo è quello che si è sentito dire un imprenditore che ho conosciuto qualche anno fa da un presunto consulente specializzato, incaricato di aiutarlo nella gestione finanziaria della sua azienda. Il compito di questo professionista sarebbe dovuto essere quello di far andare meglio le cose. La storia di questo imprenditore è molto comune, purtroppo, qualcosa che ho già visto accadere numerose volte, ma non per questo meno significativa. Alessandro era un imprenditore alberghiero. Aveva gestito, insieme a sua madre e al suo fratello, un albergo che era appartenuto ai nonni, al quale erano sentimentalmente molto legati. Una bella struttura, piena di ricordi della loro infanzia, molto frequentata e ben avviata quando l'avevano rilevata. Alessandro lavorava in reception e il fratello seguiva il ristorante e il nesso l'hotel. Avevano sempre diviso i compiti in questo modo e la sinergia fra i due aveva sempre portato ottimi risultati. Quando l'albergo è passato a loro sono iniziati i primi problemi. Lanciati dall'entusiasmo del progetto e desiderosi di fare di più e sempre meglio, avevano chiesto alcuni finanziamenti alle banche per i lavori di ammodernamento. Finanziamenti di questo tipo rischiano davvero di rovinare tutto il tuo futuro. Tra poco ti spiego anche perché. Loro avevano investito in una sala più grande, in una spa, avevano addirittura creato una piccola piscina. Era il 2003, un periodo di vacche grasse, e a nessuno pareva un problema concedere in prestito ingenti somme di denaro, tanto meno chiederle. Finanziamento ottenuto via ai lavori. Mentre stavano ancora ultimando le ultime rifiniture, sono però iniziati i problemi. In molti nella zona avevano capito che quell'area, quei paesaggi, quel clima, erano ideali per aprire un'attività di quel tipo, e si erano quindi lanciati nel mercato con nuove strutture in concorrenza tra loro. Nell'arco di cinque anni si sono ritrovati a doversi difendere con le unghie e con i denti da una concorrenza sempre più agguerrita e sempre più spietata. Poi è arrivata la crisi, scoppiata nel 2008. Le aziende hanno iniziato a chiudere, i dipendenti a rimanere a casa, i manager a vedersi ridotti gli stipendi, e tutti a fare i conti con meno soldi sul conto corrente. Per le strutture ricettive, questo ha voluto dire sempre meno clienti disposti a pagare sempre meno. Questi fattori avrebbero causato problemi a chiunque nella propria attività, ma se gestiti nel modo giusto non sarebbero stati la causa di un fallimento definitivo, e tra poco ti spiegherò anche perché. Nel momento in cui avrebbero dovuto aumentare il fatturato grazie agli investimenti fatti, si sono ritrovati ad avere entrate sempre inferiori, in continuo calo. Quello che però non cambiava di una virgola erano le rate continue incessanti della banca. Non conta che tu fatturi o non fatturi, la banca rivuole indietro i suoi soldi, sempre. Quindi, con la liquidità in continuo calo e l'umore sempre più a terra, Alessandro e suo fratello andavano ogni giorno a lavoro, cercando di sorridere e di non far pesare i problemi ai pochi dipendenti rimasti. Erano sempre state due persone allegre, ma svegliarsi la mattina diventava sempre più faticoso, superare la soglia dell'albergo, una fonte di continua ansia. Guardare la sala vuota e la porta a Gilevo era immobilizzata, gli faceva rimpiangere i bei tempi passati. Le camere piene, la sala da pranzo affollata. Questo veniva in mente da Alessandro quando si ritrovava in terrazza a pensare a come avrebbero pagato le spese di quel mese. Il suo è uno dei casi studi negativi contenuti nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovrimpressione. Se aumenti di 400 euro al giorno il fatturato, sei a posto. In questa fase della sua vita imprenditoriale era arrivato il grande consulente superesperto che aveva pronunciato questa frase sconcertante. Alessandro non era certo un esperto di finanza aziendale, ma nemmeno uno stupido e aveva capito subito l'idiozia di quello che gli stava dicendo. Guarda Giuseppe, è che mi hanno cresciuto con una certa educazione, perché ti giuro che c'era da mandarlo a fare un giro. Questo mi ha detto quando ne abbiamo parlato. Eppure capita spesso. Questa è la realtà che moltissimi imprenditori si trovano a vivere quando ingaggiano un consulente per avere una mano. Quello che ricevono sono consigli fumosi e privi di fondamento. Devi aumentare il fatturato. Nulla di più sbagliato. Non solo fatturare di più non è la soluzione ad ogni problema, ma non esiste nemmeno la bacchetta magica del fatturato. Per questo Alessandro si è naturato a chiudere, a cedere all'albergo, a perdere all'asta entrambe le case che aveva, piene di ricordi e affetti, e a cedere al fallimento per avere la speranza di poter ricominciare dal capo un giorno. Si sarebbe potuto evitare tutto questo? Avrebbe potuto tenersi la sua attività nonostante il calo dei clienti dovuto alla spietata concorrenza e alla crisi? Sì, certo. Lo abbiamo scoperto dopo, andando a fare le analisi a ritroso. I due momenti fatali per Alessandro sono stati accettare le condizioni di rientro della banca senza nemmeno farsi domande, convinto che tutto sarebbe andato come era sempre andato, e la gestione interna della liquidità quando era iniziata la crisi. Quello che avrebbe dovuto fare Alessandro è un po' lungo da spiegare in questo video. Di certo non sarebbe dovuto sottostare le condizioni della banca o delle finanziarie, ma avrebbe dovuto ottenere condizioni di finanziamento più accettabili e sopportabili prima di fare quell'investimento. L'ho spiegato nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che legge in solo impressione. All'interno di aziende che si finanziano da sole ho sintetizzato quello che ho imparato in anni di studio e applicazione pratica di procedure fondamentali per far crescere una PMI in maniera sana, equilibrata e libera dai debiti aziendali. Il manuale è un distillato di istruzioni pronte all'uso raccontate attraverso decine di casi pratici, racchiuse nelle 516 pagine del primo libro di finanza aziendale scritto per gli imprenditori e non per gli addetti ai lavori. Aziende che si finanziano da sole è infatti un libro in cui si parla di finanza, di aziende e delle azioni da fare per creare un'impresa in grado di crescere ed espandersi senza risorse esterne, solo sulla base dei propri flussi di cassa. Ma spiega in maniera semplice anche come applicare queste procedure alle aziende che attraversano momenti difficili come quelli che tanti imprenditori stanno attraversando in questo periodo. Puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Sono sicuro che non te ne pentirai, così come non l'hanno fatto le migliaia di imprenditori che l'hanno già letto. Nel libro non troverai semplici teorie, ma la descrizione di come abbiamo applicato con successo le procedure di gestione finanziaria per le PMI basate sull'autofinanziamento a più di 2000 aziende. Imparerai a ricavare il denaro necessario per realizzare i tuoi progetti o ripagare l'indebitamento della tua azienda senza ricorrere ai finanziatori esterni. Aziende che si finanziano da sole è un concentrato di protocolli e strategie fondamentali per creare un'azienda che si autofinanzia, l'unica tipologia di impresa in grado di sopravvivere, crescere e prosperare anche in periodi di recessione economica. Il libro contiene decine di storie di imprese molto differenti tra loro. Ci sono casi di aziende tessili, ma anche di imprese calzaturiere. Si parla di aziende di meccanica, ma anche di imprese produttrici di gabbie per animali. Si parla di negozi di elettronica, oppure di supermercati, e così via. Leggerai storie di imprese a conduzione familiare con due collaboratori, ma anche quelle di aziende con più di 90 dipendenti. Esempi di imprese che non hanno avuto più bisogno delle banche per finanziarsi, ma che anche grazie a una gestione ottimizzata nella liquidità, hanno trovato al loro interno i soldi necessari per continuare a crescere e restare in buona salute. Leggerai storie di imprenditori che hanno trovato accordi vantaggiosi con i loro creditori, cambiato approccio con il fisco, trasformandolo da nemico in alleato, ridotto le spese e migliorato i margini di profitto senza rinunciare al fatturato buono, rifiutato i prodotti finanziari preconfezionati delle banche e ottenuto le linee di credito necessarie alla loro espansione. Come hanno fatto? Puoi scoprirlo leggendo i casi studio raccolti nel libro Aziende che si finanziano da sole, che puoi acquistare cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione. Attraverso la narrazione dei casi che abbiamo affrontato, imparerai a capire se la tua impresa brucia cassa o genera abbastanza utili rispetto a quanto ci investi e ai dischi che corri. Capirai dove finiscono i soldi che entrano nelle casse aziendali e perché dal bilancio non riesci a capirlo. Coprirai se sei schiavo dei debiti della tua azienda e cosa puoi fare per non diventarlo prima che sia troppo tardi. Conoscerai gli strumenti per far crescere il tuo business anche se le banche non ti concedono più credito. Troverai un modo per creare la struttura finanziaria della tua azienda in modo da non doverti mai ritrovare in una situazione di detenzione. Scoprirai come io stesso ho creato la mia prima azienda senza finanziamenti bancari. Imparerai a diversificare le fonti di finanziamento della tua attività per dare le basi finanziarie più adatte alla sua crescita. Capirai perché l'autofinanziamento garantisce una crescita più stabile rispetto ai finanziamenti ricevuti dalle banche o dagli investitori. Conoscerai le quattro leve interne all'azienda da sfruttare per finanziarti anche quando le banche non ti concedono credito. Troverai le strategie per espandere l'attività usando solo le forze generate dal modello di business e scoprirai che le tecniche per arrivare all'autofinanziamento possono essere utilizzate anche per evitare la crisi aziendale. Imparerai quindi a sviluppare un'analisi strategica della tua azienda che ti permetta di cogliere i suoi punti di forza e quelli di debolezza in modo da risolvere eventuali problematiche. Capirai quali sono i segnali di una crisi aziendale e imparerai a prevenirla. Imparerai inoltre a trasformare i debiti in liquidità per l'azienda grazie alle tecniche di negoziazione applicate alle imprese in difficoltà e scoprirai molte altre soluzioni per la gestione finanziaria della tua azienda o la ristrutturazione dei debiti alle quali probabilmente non avevi mai pensato o che non sapevi come realizzare. Acquista anche tu aziende che si finanziano da sole cliccando sul link che trovi nella descrizione o digitando quello che leggi in sovraimpressione.